Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo su questo canale meraviglioso al sabato con Teresco Scusate se sono un po' stanco ma anche adesso che si sta caricando su youtube il video di ieri che non ho trovato ancora un nome, lo devo trovare che l'ho stato a montare fino alle 11... no 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 aspetta aspetta 10 e mezza di ieri sera perchè è un po' speciale ci ha messo di processare poi 40 minuti quindi al mezzanotte meno 20 se non sbaglio quindi sono un po' ma lo devo fare il sabato perchè oggi sto filmando il sabato con Teresco proprio sabato speriamo che lo finisco anche oggi e anche se scusate se sono anche un po' raffreddato si può sentire sull'accento ma ma vabbò è sempre per voi eh cosa volevo dire ah cosa oggi pensavo di fare 24 tipi di gamer o se mi vengono poi ancora un'idea 25 ah poi poi ragazzi dobbiamo trovare un tipo di nome per per quello tipo di di emissione sapete con i video che si carica adesso quella è la seconda volta la prima l'ho messo nel sabato con Teresco ma non va bene così a me non mi piace dobbiamo dobbiamo trovare un altro nome il sabato con Teresco il sabato con Teresco quella cosa con dei video è un'altra cosa capito? Matteo con te parlo quindi 24 tipi di gamer il gamer normale quello ossessionato quello in crisi quello psicopatico rampage quello troppo implicato ok ragazzi io non sono uscito da 3 mesi di casa non sono uscito di casa non deludetemi proprio adesso vi prego quello che se ne frega cosa sono morto? ah no è la colpa del lag sapete che like ah no non ho detto niente quello che deve sempre andare in bagno no raga aspettatemi no aspettate un attimo quello pessimista pessimisce sto cazzo oh no adesso adesso esplode esplodono i fagioli dentro di me farò così e no no adesso sono scoppiato quello ottimista va bene ok adesso si può fare adesso proprio che si può fare non si può quello troppo entusiasto ma questo non è possibile quello che dà indicazioni a tutti ma lui è ritardato ok va bene ragazzi io vado in giù voi andate sulla parte sinistra che c'è alla vostra destra la vedete? va bene ci incontriamo lì quello nuovo oh ma guarda quanto è bello vorrei tanto scoprire tutte le potenzialità di questo gioco se faccio così cosa succede? ah si mette posto nooo il gamer bugiardo io gioco Skyrim dal 2002 te l'ho detto che sono anche beta tester io un altro bugiardo io gioco solo giochi di strategia quello ritardato hm sembra di essere un meeting solo che si vede da sopra non lo so quello con l'internet scarso no no mi hanno cacciato fuori dal gioco ragazzi oh oh io quello con internet bono che fa finta di avere internet scarso perché non sa giocare oh no ragazzi sono di nuovo fuori gioco non lo so è l'internet cioè l'internet lento sapete com'è? no ragazzi mi sentite? quello che entra troppo nell'atmosfera e risponde con delle frasi del gioco cosa stai facendo? la domanda non è cosa ma è quando quello che è sotto pressione dice tutti i vocali ahi oh hanno trovato con chi ahi oh dirsi i vocali ah nooo quello che ha ragione ok tu vai da quella parte quello che non ha ragione ok tu vai da quella parte il pirata il multitasker il multitasker hai mai giocato quale di loro? ho giocato solo l'1 2 brotherhood 3 black flag liberation unity comet e rogue e ho sentito che deve uscire anche i chronicles of china perchè mi guardi così? ed è stato questo il sabato di questa settimana è uscito un po' corto lo so però io spero che vi sia piaciuto e non dimenticatevi date un share e un like perchè aiuta moltissimo per chi non lo sa cosa è un share e un like mi dispiace aiuta moltissimo infatti ieri che dicevo che cominciamo a fare live streaming su twitch no quando saranno un 100 iscritti se mai lo avrò 100 iscritti allora io non è che prometto ma proverò di fare live streaming intanto l'account su twitch ce l'ho già ma se non lo guarda nessuno e io sono stato Roby e fino alla prossima settimana vi saluto ciao no aspetta di nuovo aspetta come come darei sulle moschie tu così e fino alla prossima settimana ciao a tutti ragazzi